S, so, n, sono, c, cl, cla, Claudio, i, imprudente, d, d, del, c, c, del centro, d, do, c, documentazione, handicap, d, di, b, di Bologna. U, q, q, s, st, questa, f, fi, fiera, p, pu, può, a, v, ve, r, avere, u, un, i, m, p, un impatto, d, de, de, v, va devastante, che, co, m, come, h, o, d, de, t, come ho detto, p, pr, prima, durante l'inaugurazione dell'evento, u, un, una, d, de, m, mo, che, una democrazia, d, de, v, deve, a, s, su, a, s, so, l, lu, una democrazia deve assolutamente, d, da, r, dare, l, la, p, po, s, possibilità, a, t, a tutti, d, di, di accedere alla cultura. U, q, q, s, st, questo, e, m, mo, l, molto, i, importante, s, se, u, un, una, d, de, m, mo, cr, cr, r, grazia, n, no, non, r, ri, riesce, a, d, de, a fa, a far partecipare tutti, e, i, in, u, t, è completamente inutile, b, bi, s, bisogna, i, n, c, cl, includere, t, tu, tutti, e, e, t, tu, t, e tutti, d, de, v, devono, a, v, avere, l, la, p, po, s, si, la possibilità, d, di, u, s, usufruire, d, de, del, della, c, c, ca, a, c, e, t, s, della, a, c, c, s, dell'accessibilità, e, g, gr, gra, s, grazie. Durante la plenaria Claudio ha fatto un intervento fondamentale, lui usa molto spesso delle metafore, e quindi ha detto, mi ricorda Donna Rumma, il portiere dell'Italia, quando para il rigore decisivo della finale degli europei, e lì per lì non si accorge di nulla, quindi ha fatto un gesto atletico, in quel caso straordinario, ma non si accorge di nulla finché dopo un po' arrivano l'orda di compagni impazziti che lo vanno ad abbracciare, e questi piccoli eventi, anche se magari inizialmente sembrano delle piccole cose, in realtà iniziano a dare dei segni importanti sul territorio, e i risultati si raccoglieranno poi successivamente, e Claudio questo lo sa bene perché ha iniziato a far cultura dell'accessibilità, cultura dell'inclusione, fin dai tempi delle scuole speciali, quindi Claudio era in una classe con sole persone con disabilità, che non erano ammesse nelle scuole di tutti, quindi una piccola azione, dei piccoli gesti, di una fiera come questa su un territorio che deve ancora crescere dal punto di vista dell'accessibilità e dell'inclusione, è un punto di partenza importantissimo.